Loro importantissima, 5 punti fondamentali per questa stagione secondo te? Adesso siete a quota 7, una vittoria contro un avversario per la salvezza, si aveva qualche timore prima di questa partita, poi però i siete sciolti dopo un inizio un po' duro? All'inizio abbiamo osservato il loro gioco per poi riuscire a trovare i punti deboli e ci siamo riusciti, abbiamo una squadra a mio parere molto forte e competitiva, con giocatori intelligenti che possono variare le scelte di gioco in base alla difesa, merito a noi e si va avanti.